Questo evento formativo ha l'intento di fornire al professionista una panoramica contemporanea sugli aspetti chiave nella comprensione e gestione del dolore nella pratica clinica osteopatica. In particolare nell'offrire spunti di riflessione per una migliore integrazione di aspetti biologici, psicologici e sociali funzionali al ragionamento clinico osteopatico. Fornire concetti aggiornati sulla comprensione del dolore con particolare rilevanza nella pratica clinica osteopatica. Stimolare e incoraggiare una riflessione critica per implementare le proprie strategie di gestione di valutazione. Ampliare uno stile di ragionamento e giudizio clinico nella gestione e valutazione del dolore. Ed infine fornire elementi per ricontestualizzare la pratica clinica osteopatica specie in relazione alla complessità di gestione di pazienti con dolore specie se cronico.